Andrea, 0-0, che però mi sa che non accontenta nessuno. Ma allora, il primo tempo dove le forze hanno ancora buone, il partito è stata anche una bella partita, a me la mia squadra mi è piaciuta molto, ho falleggiato bene, ho cercato di trovare gli spazi giusti, dopo nel secondo tempo, oggi il caldo è stato un caldo un po' anomalo, perché oggi magari è sposo un po' il calmo di solo, in più anche fisicamente abbiamo cominciato un po' come era preventivabile, perché per noi giocare ogni tre giorni è veramente complicato. E' vero che un punto non ci serve, probabilmente non si è venuto a Cagliati, proprio per noi, però è anche vero che dal punto di vista fisico come siamo, stiamo cercando di riprendere una condizione che sarà sempre due a riprenderla, e venivamo da una sconfitta un po' bruciante, perché è una partita molto simile a questa, col Trento, sbloccata da una situazione individuale di due giocatori, a questo punto portiamo a casa il pareggio. E' vero che non muove la classifica, è vero che serve a poco, però, ripeto, noi dobbiamo fare anche per le nostre forze fisiche che abbiamo in questo momento qui, stiamo giocando ogni tre giorni, con dieci giorni di allenamento, perché siamo stati un mese fermi, quindi chiedere anche di più si fa fatica, quindi mettiamo a casa il punto, la prestazione, e poi ci hanno subito un bel collineo. Hai detto che la partita col Trento è stata simile a questa, però il Trento gli ha segnato due gol, l'Unione, Clodiense no, visto che sono entrambe nelle zone alte del Pacifico, quali differenze hai visto in tre giorni tra queste due squadre? Ma guarda, allora, dal punto di vista del gioco, un po' della presenza in campo, sono due squadre abbastanza simili, strutturate, forse la Clodiense fa della struttura fisica, della forza fisica che oggi si è vista, perché le tre o quattro occasioni che hanno avuto sono state tutte super inattiva, è più forte dal punto di vista fisico, loro hanno un'esperienza importante, penso che l'esperienza del Trento, in tre davanti, più a centrocampo, carporale e gatto, siano giocatori che possono rompere gli equilibri in qualsiasi momento della partita, quindi sono due squadre un po' diverse tra di loro, una più forte fisica e l'altra più esperta, però tutte e due buone squadre. Vista la classifica un po' anomalia, qual è il vostro obiettivo adesso? Siamo fermati che eravamo, cosa, secondi? Sì. Purtroppo dobbiamo giocare partita su partita, il nostro campionato è completamente diverso, non ci siamo dati programmi, non ci siamo dati progetti, alla fine giochiamo partita su partita, cerchiamo di vincerle tutte e dopo dobbiamo saperla leggere in corsa. Oggi a un certo punto anche il pareggio può starci, perché dal ventesimo, quincesimo, ventesimo del secondo tempo cominciavamo a lancare, quindi bisogna riconoscere la situazione e accettare quello che è la partita. Domenica è un'altra partita e riprenderemo, quindi partita su partita. Con chi giocherete domenica? Mestre. Ok, chi ha perso 2-4 con l'ultima in classifica oggi con il Chios? Male, quando gioco contro le scuole che perdono mi dà sempre fastidio, però ognuno pensa a se stesso, quindi... Buona? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.